Ben tornati ad un nuovo aggiornamento con l'informazione di TV6. In apertura partiamo dall'emergenza incendi, ferragosto di fuoco ieri in Abruzzo, diversi incendi. Probabilmente dolosi si sono accesi in diverse parti della regione. In provincia di Teramo sono oltre 100 gli ettari andati in fumo. Rispetto allo scorso ferragosto, quest'anno in Italia le richieste di intervento aereo sono aumentate del 75%. Giuseppe Dintino. L'Abruzzo brucia nel giorno di ferragosto. Come era previsto, gli incendi hanno guastato il riposo di Augusto, complici le temperature record e il vento caldo. Le fiamme ieri hanno mostrato tutta la loro violenza nel Teramano. Un vasto incendio si è sviluppato dopo le 13 in località Carapollo-Specola, nelle campagne alle porte del capoluogo di provincia. Ascetto dal bosco e staglie sopra. Il ruogo ha messo a rischio le stalle, le abitazioni della zona e diverse persone sono state evacuate. L'origine del fuoco è ancora probabilmente dolosa. Toleranza zero nei confronti degli autori, ha tuonato il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto. La regione deve aumentare le risorse a disposizione di protezione civile. Vigili del fuoco ha poi aggiunto il primo cittadino. Un secondo incendio è divampato a Miano di Teramo, a ridosso del centro abitato, dove la vicinanza alle case e le improvvise volate di vento hanno reso complicate le operazioni di spegnimento. Le fiamme ardevano anche a notte fonda, quando il Canadero ormai non era più autorizzato al volo. In serata un terzo rogo si è acceso a Torricella Sicura, in frazione Collefiorito. Il fuoco è giunto all'ambire anche la A24, dove è stato chiuso il tratto Valle Vomano-Teramo-Est. Secondo una prima stima, sono oltre 100 gli ettari di vegetazione andati in fumo, ma è probabile che il bilancio dei danni sia destinato a salire. E a due settimane esatte dal terribile incendio che ha devastato la pineta d'Annunziana, l'incubo torna anche a Pescara. Le fiamme ieri si sono alzate nuovamente tra le palazzine del capoluogo adriatico, in un terreno privato a Fontanelle, a due passi dal centro vaccinale di Via Tirino. Incendio questo presto circoscritto come quello di Capistrello, nell'Aquilano. In tutta Italia ieri sono state 44 le richieste di soccorso aereo per domare gli incendi, il 75% in più rispetto al ferragosto dello scorso anno. È il mondo intero che va a fuoco. Il rogo più vasto è quello in Siberia, nel nord della Russia, dove sono andati in fumo oltre 9 milioni di ettari di bosco e le fiamme ora minacciano perfino il polo nord. I piromani generalmente appiccano il fuoco per profitto, agevolati poi dal surriscaldamento globale, che con il repentino aumento delle temperature fa il resto. Sintomi questi di un vorace modello consumistico destinato a bruciare. E su richiesta della prefettura di L'Aquila sono in arrivo dal nono reggimento alpini assetti specializzati del battaglione Vicenza per il supporto ai vigili del fuoco e alla protezione civile per le attività di spegnimento e rifornimento idrico dell'incendio che si sta sviluppando nel bosco a ridosso dell'abitato di Pietranzieri, frazione di Roccaraso, in provincia dell'Aquila. Sempre gli alpini del battaglione Vicenza sono al lavoro per combattere le fiamme che stanno interessando le zone di Pizzo Ferrato in provincia di Chieti e Pianella nel Pescarese. Gli interventi sono squadre a terra per la bonifica di zone già bruciate, autobotti per il rifornimento idrico per i mezzi della protezione civile e moduli anti-incendio per la protezione delle zone a ridosso degli abitati. E noi restiamo in argomento perché il direttore della protezione civile abruzzese, Mauro Casinghini, stamattina sul luogo degli incendi in provincia di Teramo ha fatto il punto della situazione sullo spegnimento dei roghi con l'auspicio che anche il meteo possa aiutare ad accelerare le operazioni. Il servizio di Agna Cantagalli. Purtroppo è un'estate terribile dal punto di vista degli incendi anche nella regione Abruzzo, anche nel territorio terramano nelle ultime ore purtroppo. Beh sì, diciamo meglio che in altre parti d'Italia, però sicuramente le alte temperature in questo momento non ci aiutano. Sapevamo che questa era la settimana più dura da questo punto di vista. Stiamo facendo fronte con i vigili del fuoco, con i volontari della protezione civile, con tutto il sistema regionale di protezione civile. Speriamo che nelle prossime ore con un cambio meteorologico le cose migliori. C'è sempre la mano dell'uomo dietro a questi incendi? Il fuoco, a parte qualche fenomeno di fulmini, non si accende mai da solo. Sicuramente bisogna assumere atteggiamenti molto consapevoli e responsabili. Ovviamente tralascio il dolo, lì c'è la galera da 4 a 10 anni, quindi è bene che lasci perdere anche qualche malintenzionato. Per quanto riguarda l'atteggiamento dei cittadini, la massima responsabilità. Cambiamo argomento e come di consueto l'aggiornamento dell'andamento della pandemia nella nostra regione. Sono 15 nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di un numero basso a causa del weekend di ferragosto di test effettuati. Infatti nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 876 tamponi molecolari e 638 test antigenici. Il tasso di positività è così pari allo 0,99%. I nuovi casi hanno età compresa tra i 17 e i 73 anni. 61 pazienti con 5 nuovi ingressi sono ricoverati in ospedale in area medica, 5 invariato rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1940 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.518, mentre i nuovi guariti sono 41. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 2.06. Dei nuovi casi positivi, 12 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 8 in provincia di Teramo. E come detto salgono i casi di positivi in Abruzzo, ma anche le ospedalizzazioni. Sono 5 giovani ricoverati in terapia intensiva in Abruzzo e 60 nei reparti ordinari. Paolo Renzetti. Salgono i positivi nella nostra regione, dove oggi si registrano anche 5 degenti ricoverati in terapia intensiva. L'aumento, seppur previsto, fa suonare un campanello d'allarme, considerando che soprattutto fra i giovani ci sono ancora molti non vaccinati. Il referente sanitario regionale per le emergenze, Alberto Albani, invita soprattutto la popolazione giovanile alla vaccinazione e a comportamenti responsabili. L'aumento è legato alle varianti e alla maggiore socializzazione che sta avvenendo in questo periodo. È estate, tutti escono e quindi c'è una maggiore possibilità di trasmissione del virus perché inevitabilmente ci sono degli assembramenti, cosa che è che non dovrebbero avvenire, ma purtroppo avvengono. Nella nostra regione, dottor Albani, sono circa 60 i ricoverati in questo momento? Sì, sono 60 in reparti ordinari e 5 in terapia intensiva. Questo però aumento c'è, è costante giorno per giorno e questo non mi lascia tranquillo perché non vorrei che poi appunto in autunno dovesse ripartire la famosa famigerata quarta ondata. La maggior parte delle persone ricoverate, anche per terapia intensiva, sono persone non vaccinate e il problema è che sono persone giovani, sono tutti quanti trentenni, nella fascia di 30 anni, quindi questo significa che le fasce che prima erano non colpite dal virus oggi sono anch'esse coinvolte da questa malattia. Un appello veramente accorato a tutti di vaccinarsi, anche i giovani, non siete immuni, è l'unico strumento, l'unico modo che abbiamo di evitare non soltanto i ricoveri in terapia intensiva, ma anche e soprattutto i decessi. Ho visto delle immagini che venivano dalla Sardegna o anche in altri posti del Lazio, del Miglia Romagna, in cui ci sono stati veramente degli avvenimenti sciagurati in cui migliaia di persone senza mascherine si sono riunite. Questi sono comportamenti assolutamente da evitare. Siamo ancora in guerra, non l'abbiamo vinta, siamo in una fase in cui si può decidere le sorti dei prossimi mesi. Questo è anche da un punto di vista economico importante, perché significa che se noi dovessimo malagulatamente, nessuno se l'acqua, le giornali in fascia gialla, avremo di repercussione anche economica e non ce la possiamo permettere, assolutamente. E dunque il vaccino resta l'unica arma a disposizione che abbiamo e per questo è rivolta ai giovani in vista della riapertura delle scuole, ma non solo. L'Open Day organizzato dalla ASL di Pescara nella giornata di sabato 21 agosto presso i centri hub vaccinali della provincia. I cittadini over 12 possono prenotare la prima dose di vaccinazione anti-covid nei centri di Pescara, hub Palafiere di Via Tirino, a Montesilvano, hub Paladin Martin, poi a Scafa, nell'hub della Val Pescara, area ex cementificio e nell'hub di Penne in Contrada Campetto. Invece intera settimana di Open Day al centro vaccinale di Teramo, da oggi al 20 agosto, con orario dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. In provincia di Chieti la ASL ha disposto l'accesso libero senza prenotazioni negli hub presenti sul territorio per la fascia dai 12 ai 18 anni. Accesso per tutte le fasce da oggi invece al 20 agosto. E noi cambiamo argomento, ma restiamo a parlare di scuole. Firmato il protocollo di sicurezza per le lezioni in presenza tra Green Pass, mascherine ed orari scaglionati. Sono previste convenzioni per effettuare tamponi gratis al personale scolastico, ma nessuno sconto sui test sarà disponibile ai cosiddetti Novax. Vediamo. Dal Green Pass ai test, dalle mascherine al distanziamento, dagli orari scaglionati alle menze. Stabilite le regole per provare a garantire le lezioni in presenza. Dopo una lunga trattativa notturna tra venerdì e sabato, con l'ok dei sindacati, il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi ha firmato il protocollo di sicurezza a scuola e la circolare è stata inviata agli istituti. Il protocollo, insieme al DL 111 del 6 agosto e al piano scuola 2021-2022, è parte del tridente normativo che disciplinerà il ritorno sui banchi. Manca meno di un mese in Abruzzo allo squillare della prima campanella. Il governo non dà disposizioni precise per quanto concerne gli ingressi e le uscite. Ogni scuola farà come le pare, stabilendo eventuali orari scaglionati e accessi alternativi. Lo stesso vale per le menze, dove dovranno esserci i dispenser per il disinfettante, ma non saranno più obbligatorie le stoviglie monouso. Negli ambienti scolastici dovrà essere assicurata la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica. In classe, a partire dalle scuole elementari, bisognerà stare con la mascherina e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. I banchi, invece, saranno disposti ad almeno due metri dalla cattedra dell'insegnante. In classe sarà fondamentale, inoltre, garantire un buon ricambio d'aria. Sarebbero opportuni i condizionatori, cosa che nelle vetuste scuole italiane, dove spesso anche i termosifoni malfunzionano, sono cosa più unica che rara. Si consiglia quindi di tenere le finestre aperte, almeno fino a quando le temperature lo consentiranno. Resta obbligatorio il Green Pass per il personale, senza il quale, dopo cinque giorni, scatterà la sospensione senza stipendio fino all'ottenimento del certificato verde. Le scuole, inoltre, mediante accordi con le ASL o strutture diagnostiche convenzionate, potranno utilizzare risorse straordinarie per garantire tamponi gratis ai docenti, ma solo a quelli non vaccinabili. L'obiettivo del ministro, così, è quello di non consentire alcuna agevolazione a chi non si è ancora deciso a ricevere la propria dose. I sindacati, poi, chiedono nuove corsie preferenziali per l'immunizzazione, soprattutto in caso di un'eventuale terza dose. Quella del personale scolastico, infatti, è stata tra le prime categorie ad essere immunizzate e i nove mesi di validità del Green Pass non basteranno di certo a coprire l'intero anno scolastico. In conclusione, chi ha una temperatura corporea di 37 gradi e mezzo oltre, oppure altri sintomi, dovrà restare a casa, ma ai vaccinati basterà una sola settimana di quarantena per poter tornare in classe dopo l'esito negativo del tampone. Ed ora una notizia di Cronac, personale della Guardia Costiera di Giulianova, con il supporto del personale della ASL, servizio veterinario della sede di Giulianova, ha svolto nei giorni appena trascorsi diverse attività di verifica in materia di pesca, in vista soprattutto del ferragosto, periodo come noto di maggiore richiesta di prodotto ittico. Oggetto del controllo, esercizi commerciali dislocati sul territorio di competenza del circondario marittimo di Giulianova, tra cui un camping in cui viene svolta la ristorazione, alcuni venditori, centri di spedizione e pescatori professionali, con lo scopo di verificare il rispetto delle norme vigenti lungo l'intera filiera ittica. Nel dettaglio i militari sono venuti a conoscenza di un deposito notorizzato di mitili, che tuttavia risultavano correttamente tracciati ed etichettati, immediata la sanzione di 3 mila Euro per la mancanza delle previste autorizzazioni sotto il profilo igienico-sanitario. Sempre nell'ambito delle verifiche di alcuni centri di spedizione veniva riscontrata la presenza di etichette riportanti un centro di spedizione non più attivo da diversi anni, in questo caso è scattato il sequestro con conseguente rigetto in mare di circa 400 kg di vongole. Infine, nell'ambito della ristorazione veniva sanzionato un locale di Alba Adriatica, nel quale a seguito di un'attenta ispezione si riscontrava la presenza di prodotto ittico non rintracciabile, applicando quindi la sanzione pecuniaria di 1.500 Euro. E noi cambiamo di nuovo argomento, presentato oggi a Pescara, Casauria Naturiof, il progetto che mette al centro Tocco da Casauria, finanziato da Ance e Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vediamo. Si chiama Casauria Naturiof, il progetto finanziato dall'Anci che riguarda Tocco da Casauria verso una comunità energetica. Sindaco, di cosa si tratta? È un bando che tende a formare i giovani sulle politiche energetiche territoriali con l'idea di costruire, di incubare una capacità poi di autoproduzione locale che vada verso la realizzazione di una vera comunità energetica. L'ecosostenibilità è uno dei punti fondamentali dei programmi degli ultimi 10-15 anni a Tocco da Casauria. In realtà, come ben sapete, anche da molti anni prima, perché le prime paleoliche furono messe nell'89 a Tocco da Casauria, le prime pale in Italia. È un lungo percorso che ci ha portati a programmare come amministrazione comunale negli anni una serie di progetti e di realizzazioni per quanto riguarda appunto delineare un futuro rispetto all'ecosostenibilità del territorio. Oggi il passo oltre, con questo bando e questo finanziamento dell'Anci, il passo oltre è quello di fare in modo che crescano i giovani nel nostro territorio e che possano essere loro poi capaci di fare il passo avanti e di costituire una comunità energetica locale, quindi fare un'economia che nasca e si sviluppi tutta all'interno del territorio dell'area casauriense. Noi siamo stati partner fine dall'inizio, abbiamo stimolato questa inesima iniziativa perché Tocco da Casauria va riconosciuto in comune virtuoso nel senso della ricerca di modi per produrre energia rinnovabile ed alternativa. Da molti anni gestisce un parco eolico che è un parco di riferimento sia per la sua capacità produttiva legata ad una posizione perfetta, sia anche per la sua compatibilità con l'ambiente in cui si è inserito. Quindi noi siamo ben felici di sostenere il comune come facciamo con tutti quanti i comuni del parco per un'iniziativa che avvia un processo che noi speriamo possa rappresentare un ulteriore volano virtuoso. Dal 23 al 28 agosto si terrà all'Aurum il Pescara Liberty Festival, l'appuntamento tra musica e cultura. Vediamo. Maestro Rendine, che cosa vedremo in queste sei giorni del Pescara Liberty Festival? Vedremo degli spettacoli liberty ispirati al liberty di musica del periodo liberty con grandi interpreti come Katia Ricciarelli, Daniela Mazzucato la regina dell'operetta, Nando Citarella per le canzoni napoletane, la Raico Budapest Orchestra e uno spettacolo di varietà dell'epoca che si chiama Belle Epoque, polvere di stelle. Un concerto di musica da camera bellissimo e dolcissimo del sassofonista Mimo Malandra con la fisarmonica, una violinista francese, una coproduzione italo-francese sul caso assolutamente liberty e straordinario del compositore Eric Satie. avremo una maratona che dalle 8 e mezzo finirà all'una di notte di 5 spettacoli, uno più bello, uno più importante dell'altro. In più il festival che comincia il 23 e finirà il 28, compreso, avrà un'anteprima il 22 di fontane luminose su musiche di compositori come Debussy, Straminsky, Satie, compositori Liberty, queste fontane in musica, fontane danzanti davanti al piazzale dell'Aurum perché vogliamo fare un omaggio ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile e a tutti quelli che hanno salvato la Pineta perché questo festival voglio ricordare che era un festival che si doveva svolgere e veniva chiamato così nel marchio nella Pineta Incantata. La Pineta Incantata è diventata la Pineta Incendiata, abbiamo dovuto spostare tutta l'idea, il festival non si fa più nella Pineta, si fa all'Aurum, ma l'Aurum è sempre il centro della Pineta, un edificio Liberty e quindi va bene dal punto di vista della logica. Siamo straziati per quello che è successo alla Pineta e quindi è proprio perché si possa ricostruire questa Pineta che noi abbiamo deciso di farlo ad ogni costo e comunque. Nei giorni scorsi a Pescina si è tenuto Bande in Festa, il primo raduno bandistico promosso dalla neonata associazione culturale e musicale Fontamara. Vediamo. Musica, cultura, tradizione e storia si fondono per dare vita al primo raduno bandieristico Bande in Festa. L'evento andato in scena a Pescina è stato organizzato dall'associazione culturale e musicale Fontamara con il patrocinio del comune siloniano. Un appuntamento che ha riscosso un grande successo in termini di partecipazione e gradimento da parte della popolazione, come sottolineano gli organizzatori. Sicuramente dopo il Covid, dopo tanta guerra che è stata fatta anche a Pescina per fronteggiare l'emergenza sanitaria, ci vogliono anche iniziative di questo tipo culturali. Certo, queste sono iniziative importantissime per il nostro territorio, anche perché Pescina ha una grande storia bandistica che ormai è quasi di 200 anni, si parla della prima banda di Pescina nell'inizio del 1800 e queste sono iniziative per iniziare a vivere, cercare di ricominciare a prendere un po' di normalità. Io voglio ringraziare la banda che è neonata, l'associazione culturale e musicale Fontamara, che è appena un anno di vita, e ha deciso di intraprendere questo cammino insieme a noi, appoggiati dall'amministrazione e creare questo raduno bandistico che speriamo sia il primo di una lunga serie. Possiamo dire questa particolarità, nel senso che l'associazione culturale è nata in pieno lockdown, possiamo quasi dire, proprio nei mesi più drammatici dell'emergenza e la banda è stata fondata proprio lo scorso anno, era l'agosto del 2020, quindi oltre il Covid ci siamo proiettati proprio oltre il Covid. Esattamente, infatti è un periodo un po' difficile, però noi abbiamo tenuto duro e ce l'abbiamo fatta, ci abbiamo creduto sin dall'inizio e speriamo che sia un'associazione che ha lo scopo di diffondere la cultura musicale e anche invogliare i giovani di Pescina, i giovani ragazzi a intraprendere lo studio della musica, suonare in banda e esibirsi in determinate occasioni culturali e musicali. Pasciamo la pagina degli eventi, apriamo quella dello sport, per quanto fosse grande il divario col Napoli, l'amichevole di due giorni fa ha fatto chiaramente capire quanto ci sia ancora molto da lavorare per Auteri e il suo Pescara e la squadra va completata con almeno altri due o tre elementi, come ha spiegato il DS Matteassi. Restano i casi Busellato e Galano, ormai dei separati in casa. Andrea Costantini E' un Pescara che esibisce ancora il cartello lavoro in corso, quello visto all'opera nell'amichevole di sabato col Napoli. Tutte le valutazioni vanno ponderate col fatto che il Delfino deve essere ancora completato e con lo spessore notevole dell'avversario e quindi con il divario tecnico esponenziale che c'era tra le due squadre, senza dimenticare che la squadra di Spalletti proprio questa domenica giocherà la prima di campionato, dunque più avanti nella preparazione più pronta. Il Pescara però è in divenire, la prima cosa che è saltata agli occhi è la necessità di mettere a posto i sincronismi difensivi con una linea superata troppo facilmente quando ha provato ad alzarsi e mettere in fuori gioco gli avversari. In attacco, al di là del lampo della traversa di Frascatore, sugli sviluppi di una palla di attiva, il Pescara ha fatto molto poco, pur avendo creato in alcuni casi delle discrete premesse, le azioni si sono arenate negli ultimi 25 metri e non solo per la bravura dei difensori di Spalletti. Tra i giocatori che hanno destato impressioni favorevoli ci sono Cancellotti, che si è applicato bene, pur giocando in un ruolo non proprio suo, quello di braccetto destro. Bene anche il primo tempo di Zappella, che sovente ha provato a spingere. Male Nzita, svagato e distratto in difesa, mai visto in fase d'attacco. Se l'è cavata con un po' di esperienza Drudi, nonostante l'errore in disimpegno sul secondo gol e la mission impossible di contenere Osimen. Memusciai e Pompetti hanno fatto bene la loro parte, male invece il tridente, in particolare con Marilungo in evidente ritardo e Bocic sin troppo timido. Tra i giocatori entrati nella ripresa, ampiamente sugli scudi, il baby portiere Sorrentino in mena di prodigi sugli avanti del Napoli, i cui tentativi si sono quasi tutti infranti contro i guanti dell'estremo della primavera. Circa gli ultimi due arrivati, debutto nella ripresa per Ingrosso. Il portiere Di Gennaro è rimasto in panchina. Un vero peccato le diverse assenze che hanno impedito ad Auteri di verificare fino in fondo il lavoro fin qui svolto. Aut Ijanes, De Marchi, Djambo e Di Grazia, esordio rinviato per Ferrari. Alcuni di loro Auteri conta comunque di recuperarli in vista del match di Coppa Italia di giovedì sera all'Adriatico-Cornacchia contro l'Olbia. Un test ancora più veritiero perché contro una pari grado, anche se sulla carta destinata ad un torneo diverso da quello del Pescara. Fanno rumore le assenze dei separati in casa, Galano e Busellato, per i quali il presidente Sebastiani nel dopogara ha avuto parole piuttosto pesanti. Una frattura difficile da ricomporre se i due calciatori non andranno via. Una presenza in organico che può condizionare anche il mercato in entrata, circa il quale il DS Luca Mattea si ha fatto il punto, subito dopo il test di Casteldisangro. Sì, sì, sicuramente altri 2-3 giocatori arriveranno e siamo convinti che faremo un ottimo campionato. Galano e Busellato non convocati per quest'amichevole, i giocatori partiranno se ci sarà la possibilità? Se ci sarà la possibilità, sì. Se non ci sarà la possibilità, no. Magari uno dei due partirà, uno rimarrà. Dipende, però sicuramente anche quando fai le partite queste amichevoli, il campionato, quello che è, ci vuole tutta gente convinta che sia attaccata a questo progetto, altrimenti non ha senso far giocare determinati giocatori. I giocatori non sono convinti di restare da quel che si è capito? Non sono convinti. I giocatori sono qua da qualche anno. Noi vogliamo cambiare il più possibile e vedremo se ci sarà l'occasione bene, altrimenti rimarrà una pescara. Direttore, per chiudere, è arrivato Di Gennaro, ma probabilmente voi siete alla ricerca anche di un altro portiere. La strada che porta Pigliacelli resta ancora aperta? Io penso proprio di no. È arrivato Di Gennaro, abbiamo scelto Di Gennaro, che poi conosce anche bene come gioca il mister, perché è stato un suo giocatore a Catanzaro, quindi siamo contenti di aver preso lui e non vedo anche perché dietro poi c'è Sorrentino, che è veramente un 2002 che può esplodere da un momento all'altro. Passato il ferragosto e con la Coppa Italia alle porte, il Teramo attende che l'organico a disposizione di Guidi venga completato, perché in molte zone del terreno di gioco ha poche alternative e in altre totalmente scoperto. Jacopo Forcella. A 13 giorni dall'esordio in campionato e a meno di una settimana da quello in Coppa Italia con il Monterosi, il Teramo sa che la strada da dover percorrere è ancora lunga. In questo momento Guidi sta lavorando con un gruppo in cui qualcuno va ancora inserito gradualmente perché è arrivato da poco, l'ultimo è stato Tozzo che presumibilmente sarà il titolare tra i pali e soprattutto vanno colmate le lacune d'organico evidenti. Le partenze di Santoro, Cianci e Diakite, benché siano state remunerative, hanno sguarnito la rosa del tecnico in tre settori fondamentali del campo. In difesa a destra Azio Osmanovic, nell'amichevole col Castelnuovo ha dato ottime risposte e sarà lui il padrone di quella corsia laterale. In mezzo Soprano e Piacentini dovrebbero partire con un discreto margine di vantaggio su Bellucci e Trasciani che potrebbero essere però ottime alternative, ma per Rillo a sinistra e Azio Osmanovic a destra mancano le alternative. In mezzo Santoro non sarà semplice da sostituire, è arrivato Fiorani, tre anni meno del neo perrugino, ma che ha bisogno di tempo per crescere oltre a Cucurullo. Ecco perché al momento Arrigoni, Mungo e Viero sembrano il terzetto destinato ad avere i galloni da titolare. Anche qui, tuttavia, oltre a Cucurullo e Fiorani servono innesti per corroborare il settore nevralgico del campo. Davanti l'arrivo di Malotti consente di poter avere una soluzione esterna, ma manca ancora in maniera enorme l'attaccante centrale. C'è Berlige al momento con Chiere Mateng che tuttavia è più adatto ad una posizione esterna. Partito Cianci, va trovato chi possa raccogliere il testimone del Barese che però a Teramo è stato di fatto solo di passaggio. Tempo non ce n'è ancora molto considerando che la gara di sabato pomeriggio contro i laziali neopromossi in Serie C, benché ufficiale per il Teramo sarà solo una prova generale di condizione, con Guidi che spera di avere qualche tassello in più da giocare per evitare di iniziare il campionato già con il fiato corto. Ma ora sono tantissime le cose che dobbiamo migliorare sia nella prima costruzione e soprattutto quando riusciamo a portare il possesso palla nella metà campo avversaria. Non dobbiamo essere frenetici. Molte volte forziamo delle giocate che ci precludono di dare continuità al nostro possesso, oppure di andare alla ricerca di uno spazio da attaccare con più qualità. A volte siamo troppo frenetici e poi soprattutto chiaramente c'è da migliorare la pressione, il pressing, ma queste sono tutte cose fisiologiche da dover migliorare perché abbiamo intrapreso da poco la nostra stagione e soprattutto è una rosa ancora incompleta, siamo un gruppo totalmente in costruzione e quindi ci vuole del tempo anche per far passare a tutto il gruppo ogni concetto e ogni idea di gioco. E questa era la nostra ultima notizia. Tutti i servizi che avete visto li trovate sul nostro canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.